Ciao ragazzoli e ragazzole, come state? Spero tutto bene, quante mille anni che non facevo questa introduzione così, non lo so, va bene, lo stesso. Quindi, oggi parliamo di Antico Egitto. Lo so, vedete Penny, sei scema, il Giappone dove l'hai lasciato? In Giappone ovviamente, ma due giorni fa, non lo so, vabbè, giorni fa sono andata a vedere al cinema il documentario su Tutankhamon, in realtà buona parte di quello che era stato raccontato, già lo sapevo, però è sempre bello farselo raccontare un'altra volta. E è bellissimo, perché hanno fatto vedere anche alcune parti di questa mostra itinerante su Tutankhamon, che avrebbe dovuto girare il mondo, forse sarebbe anche arrivata in Italia, sono sincera, poi non mi sono informata perché mi veniva la tristezza. mostra itinerante che è stata bloccata a causa del Covid, infatti tutti i pezzi, no, sono tornati al museo Al Cairo e tra l'altro è stato annunciato che non ripartirà mai, mai più questa mostra itinerante, che poi mai più è un po' come dire, cioè è proprio una cosa che, non so, per me il mai, non si può mai sapere nella vita, ma comunque adesso se uno volesse andare a vedere alcuni, come dire, pezzi, no, di questa collezione che apparteneva alla tomba di Tutankhamon, deve comunque recarsi al museo Al Cairo. Cosa che mi piacerebbe comunque fare, prima o poi nella mia esistenza, nella mia vita, andare a fare il giro in Egitto. Chi di voi vuole farlo con me, me lo scrive qua sotto, ci organizziamo, insomma, ci organizziamo, facciamo un pulmai, io non sto scherzando, tra l'altro sappiate che parlo seriamente, andiamo, tutti ci organizziamo, facciamo, però ecco, vi dico subito, per me l'Egitto è il sogno della mia vita, più di tutti gli altri, quindi se venite a fare il giro in Egitto con me, io faccio una cosa da recconi, parlo sul Nilo, senza il morto, però, tipo, cioè, ma proprio che mi spendo tutti i risparmi che ho, che non sono tanti, sono pochi, ma fa niente, perché, cioè, se uno deve farlo, lo deve far serio, eh, cioè, qui non ci si risparme, c'è qualsiasi gita cazzata che si fa, si fa, si fa seriamente, quindi, detto questo, volevo in realtà fare un post su Instagram, e ci ho provato, giuro, e non mi sono resa conto che avevo tutti questi libri che parlavano di persone varie dell'antico Egitto, più qualche saggio, e quindi mi sono detta, dai, vi faccio un videino, non è che sono mille, mila volumi, eh, perché tanti sono saghe, e quindi occupano tanto spazio, però ci dovevo dirvi due parole, ecco, così, insomma, farvi vedere magari qualche romanzo sull'antico Egitto, ma questa è una mera scusa, perché voi qua sotto nei commenti mi scriverete altri libri da recuperare sull'antico Egitto. Potete anche scrivermi quelli di Christian Jacques, perché li conosco tanti, non li ho personalmente, aspettate, me ne è venuto in mente un altro. Eh, sono qua, sono tornata, vi dicevo, i titoli di Christian Jacques, potete scrivermi lo stesso qua sotto, perché adesso io non vi citerò qui dei romanzi che io conosco, ma non ho, semplicemente sono tutta roba che ho, eh, e quindi ecco, mi farete sapere invece se c'è dell'altro. Voi scrivetemi qua sotto, scrittemi, sì, è bello, è brutto, ne vale la pena, non ne vale la pena, insomma, in generale parliamo comunque di antico Egitto. Allora, il libro che mi ha piaciuto, tengo a farvelo vedere, allora, tutti quelli che si trovano, li trovate nel linfociccino. Io i titoli ve li scrivo tutti, se c'è di fianco un link, eh, spero, perché, 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 perché si trova, di alcuni io sono certa che non si trovano. Don't hate me, please, perché non è colpa mia se non li ristampano, eh, io ce li ho perché, eh, li ho comprati, ignara di questa cosa di fuori catalogo anni fa, io non ci vadavo onestamente, vedevo un titolo che mi interessava su qualche mercatino e lo compravo. Comunque, il libro che proprio mi ha fatto esplodere questa cosa, che è anche un po' impolverato, poverino, è questo. Questo è uno di quei volumetti piccini che si regalano ai ragazzini, ai bimbini, anzi, e infatti tanti quelli di buon compleanno, ci ho anche scritto. Questo me l'hanno regalato, secondo me, quando ho compiuto tipo sette o otto anni, una cosa, forse sette anni, per la festina di compleanno e è bellissimo, è bellissimo perché, tra l'altro, guardate quanto è scritto, per essere un libro per bambini è veramente un botto scritto. Però, cioè, è scritto grande, mi ricordo c'erano tante informazioni curiose, poi era carino perché, guardate, c'erano tantissime immagini e quindi era bellissimo, era bellissimo per questo motivo. e gli spiegava, tipo, vabbè, i prodotti del giardino, come la scuola, come funzionava nell'antico Egitto, al mercato, dalla fattoria al pascolo, poi c'era anche, aspettate, vediamo se trovo del faraone, allora, no, qua erano gli uomini del legno, il laboratorio di Pellame, qua, vabbè, il ricevimento, no, c'è anche il faraone, adesso sì, quel giorno di festa a Tebe, con la città sacra, nel cuore del tempio, mi ricordo che c'era anche quella, tipo, della preparazione dei vestiti, allora, c'era, questo era tremendo, miserie umane che vi raccontava anche di come veniva fatta giustizia e, tipo, come venivano curate, tipo, la tosse o varie malattie, come veniva preparata la mummia, ovviamente, fantastico, e poi bellissimo perché c'è questo, che adesso vi faccio vedere, c'erano i disegni, che io dopo me li rifacevo, di tutti gli dei dell'antico Egitto, stupenda, sta cosa, questa è veramente, ovviamente spiegata in maniera molto semplice per bambini, però è veramente molto carino e me l'ha piaciuto tantissimo, questo qui, il pettorale sacro di Tutankhamon, questo famoso, dunque questo libro veramente carino, si chiama Viaggi nella storia e carissimo, veramente carissimo, e quindi appena sono piaciuta un pochettino, vediamo se c'è scritto quando l'ho comprato, questo, una volta lo scrivevo, allora, questo è nel 98, quindi avevo 12 anni, perché sì, effettivamente questa era la collana, a partire dai 12 anni del battello a vapore, c'era il ragazzo che sfidò Ramses il grande, perché questa ero piccolina, però qua, capito, ero già un po' più grandicella, ma c'avevo ancora sta fissa per l'Egitto, tra l'altro 24 mila lire, ah, mappede, e era tutta la storia, non so se chi di voi è cresciuto con il battello a vapore, si ricorda che c'erano i colori, in base alla difficoltà di lettura, quindi c'era tipo azzurro, che erano per i bambini molto piccoli, poi c'era arancio, poi c'era rosso, poi non so se c'era anche bianco, che forse era per i bimbi ancora più piccoli, però ecco, questo diciamo che era la, il rosso così, era proprio per i bimbi grandi, e quindi, poi c'era questo, poi vi faccio vedere un'altra cosa, che non è l'originale, me lo sono ricomprata, perché in teoria era di mia sorella, che si era portato via a un certo punto della sua vita, che era questo, che è l'Atlante dell'Antico Egitto, questo appunto, l'originale, non ce l'ho io, io l'ho ricomprato su ebay, questo, perché non so se si trova in altra maniera, l'ho pagato un casino di soldi, credo di averlo pagato 50 euro, ma è stato veramente, sapete uno di quegli acquisti, tipo, mia sorella l'ha portato via, io dopo, il giorno dopo, la sera stessa, sono andata su ebay, ho scritto, l'Atlante dell'Antico Egitto, li ho fatti passare un attimo, per vedere qual era quello tenuto meglio, ho mandato il link a mio padre, e lui mi ha detto, ok te l'ho comprato, io appena l'ho visto, ho tirato fuori 50 euro, gli ho dato, grazie mambo, così, proprio, con una, non lo so, una leggerezza, che io raramente ho, quando devo spendere così 50 euro di botta, ma perché questo libro, io ci tenevo troppo ad averlo, perché è veramente bellissimo, cioè se sei davanti all'Antico Egitto, è impossibile non averlo, adesso ve lo apro, vi faccio un po' vedere, cioè vi fa, è proprio tipo un Atlante, ma ha queste immagini stupende, e vi racconta di tutte queste, di tutte queste città, insomma, vi racconta dei vari momenti dell'Antico Egitto, di Tebe, vi spiega, vi fa vedere tutte queste foto, insomma, Karnak, aspettate eh, l'Alto Egitto Meridionale, cioè, vabbè, è pazzesco, lo sfondo, all'inizio c'è tutto lo sfondo storico, è un Atlante ragazzi, quindi, è chiaro che, è classico Atlante storico, adesso so che, praticamente, non si usano più gli Atlanti storici, adesso vi dico, la vita quotidiana, e io mi ricordo quando ero bambina lo sfogliavo, questo e guardavo tutte queste immagini bellissime, queste foto stupende, le donne della società egizia, la religione, stupendo, è il classico Atlante storico, che si utilizzavano anche per fare le ricerchine di scuola, questo è di che anno, ve lo dico perché secondo me, sono robe troppo interessanti, allora, tra l'altro questo qui, era pubblicato da questa casa editrice di Oxford, nel 1980, traduzione dell'inglese, bellissimo, sì, era stato stampato per l'Istituto Geografico di Agostini, nel 1985, quindi, insomma, cioè, è un senso fighissimo, guardate, faccio vedere, questo è, cioè, se mi piace l'Antico Egitto, questo dovete per forza cercarlo, signori, e lo trovate su ebay, nel senso che si trovi ancora tranquillamente, senza nessun tipo di problema, poi, per quanto riguarda i saggi, allora, questo qua, è un libriccino, sapete di quelle collane antiche civiltà, ecco, questo non l'ho pagato due euro, l'ho pagato, o un euro e cinquanta cents, vabbè, ci sono tipo Antico Egitto, i Greci, i Romani, e quant'altro, questo qui è sull'Egitto, i suoi faraoni, e vi parla della Valle di Re, e della maledizione di Tutankhamon, cioè, sono quei librini, no, carini, che si leggono velocemente, con un sacco di curiosità, con anche dentro tutte queste, queste foto, no, queste immagini, eh, su Carucci, eh, infatti qua vi racconta di Carter, di quando ho scoperto la tomba di Tutankhamon, eh, vi racconta i primi turisti, che sono andati a visitare l'Egitto, insomma, è tutta una serie di curiosità, non c'è niente di, cioè, se uno sa già un po' di robe sull'Antico Egitto, non c'è scritto niente di nuovo, è soltanto un librino di curiosità, e secondo me è molto carino, intanto, perché c'era anche l'Antico Egitto, il Culto di Morti, ma io non l'ho trovato, e poi ce ne sono varie, anche appunto sui Romani, sui Greci, e quant'altro, infatti se riesco a trovare le altre cose, ma le recupero, perché sono proprio carine, queste, sono quelle robine da Edicola, come questa, che era una collana da Edicola, me l'ho riuscita a trovare, allora, oltre che sui mercatini, se andate sul sito del Corriere della Sera, ve li vendono i volumi sciolti di questa collana, perché tra l'altro, credo che neanche tanto tempo fa, le hanno ributtate fuori in Edicola, che era la collana sulla vita quotidiana, io avevo recuperato sia questo, in Egitto, ai tempi di Ramses, appunto, che vi raccontano come funziona la vita quotidiana, in quel periodo, questo ammetto che l'ho leggiucchiato, ma non l'ho letto tutto quanto, però, non so, mi dà l'idea che sia molto interessante, perché vi racconto appunto, la famiglia, allora, il tempo, l'abitazione, quindi vi spiega, tipo, ah, i mobili, il matrimonio, la donna, wow, i figli, figo, i serviti e gli schiavi, gli animali domestici, le occupazioni domestiche, quindi, la pulizia, l'abbigliamento, il menu, bellissimo, cioè, e i oxi a questo, che, credo, è quello ai tempi della guerra di Troia, ho recuperato, e comunque, ecco sì, è un saggio secondo me interessante, e vi ripeto, provate a guardare sul sito del Corriere della Sera, perché secondo me si trovano ancora sciolti, e magari sull'Antico Egitto ce n'erano anche degli altri, se non è stata non ci ho guardato, perché questi, li ho recuperati, non mi ricordo se sul mercatino, o in scambio da qualche parte, ma perché è un po' che ce l'ho, ma era in realtà una collana molto bella, adesso sto guardando qua il piano dell'opera, perché c'è veramente, vi copre una, tutta praticamente la storia del mondo, tipo, c'è la vita quotidiana in Cina, la vigilia dell'invasione mongola, la vita quotidiana in Italia nel Settecento, la vita quotidiana dei vichinghi, la vita quotidiana in Francia, i tempi della rivoluzione, la vita quotidiana degli eserciti di Alessandro Magno, cioè bellissima, meno male che io non mi sono messa dietro a farla su questa collana, sarei stata in grado, c'è un problema, vedo una roba di storia, io non capisco niente, per quanto riguarda invece Howard Carter, Howard Carter è colui appunto che ha scoperto la tomba di Tutankhamon, la sua storia è interessantissima, e c'è un romanzo anche che vi racconta la sua storia, dopo ne parliamo, ma c'è anche un libro che racconta, cioè è lui stesso che si racconta, che è questo, che l'ha scoperta della tomba di Tutankhamon, di appunto Howard Carter, io l'ho trovata in questa edizione della National Geographic, non so se in Italia esista anche un'altra edizione, anche questo l'ho sempre leggiucchiato, ma non l'ho mai letto ancora in integrale, non mi ricordo chi mi aveva detto che è un po' pallosetto da leggere, però ragazzi, cioè nel senso, non lo so, lui, Howard Carter non è uno scrittore, è un archeologo, può essere, che a raccontare diciamo la storia non sia proprio bravissimissimo, è chiaro che non è un romanzo, insomma è un po' il suo, una specie di diario immagino, poi, cioè quando sei in prima persona, un po' te la canti, un po' te la soni, anche quello è ovvio, però, è sempre interessante, perché racconti in prima persona, di chi ha fatto la scoperta, e quindi, vabbè, è ovvio che poi tu lo racconti con un altro entusiasmo, ed è ovvio che il racconto in prima persona, non è obiettivo, perché è in prima persona, chiaro, cioè se fosse un altro che la racconta, è un'altra cosa, ma anche lì sarebbe comunque, cioè dovresti sentire tre o quattro campane, poi per dire, ok la storia vera è stata questa, comunque in ogni caso, è stata documentata, ecco la scoperta della tomba di Tutankhamon, quindi, cioè non ce ne si scappa più di tanto, perché c'era un fotografo appunto, che aveva, che era stato scelto, tra i vari anche giornali, che potevano avere la copertura, come dire, della scoperta, perché insomma è stato un casino, che non vi sto a raccontare, perché se leggerete appunto il romanzo, se leggerete qualche saggio, sulla scoperta di Tutankhamon, è bello che ve lo scopriate, perché è bellissima, la storia della scoperta di Tutankhamon, e è bellissimo, perché Tutankhamon è l'unico faraone, di cui si è ritrovata la tomba completamente integra, ecco perché è così importante, non per Tutankhamon in sé, perché ci sono stati dei faraoni, decisamente più importanti di Tutankhamon, Tutankhamon è morto giovanissimo, aveva 19 anni, quindi non è che ha fatto chissà che cose nella sua vita, però è questa la sua importanza, perché è l'unica tomba intatta di un faraone, e tra l'altro è una tomba che è stata fatta in fretta e furia, infatti è molto piccola per essere la tomba di un faraone, perché appunto quella ufficiale non era ancora pronta, e vedendo quella di Tutankhamon, si può solo immaginare cosa ci fosse dentro le tombe, quelle di faraoni molto più importanti di lui, io non posso immaginare come poteva essere per esempio la tomba di Ramses II, cioè una roba inimmaginabile ovvio, e comunque questo è molto bello, perché chiaramente essendo National Geographic è pieno di fotografie stupende, perché non gli si può dire nulla, ma qualsiasi anche rivista appartenente al gruppo National Geographic, che sia appunto il classico National Geographic, o storica, che è una rivista che amo tantissimo, ha delle foto che valgono il prezzo della rivista, che in realtà costa pochissimo storica, rispetto al vari focus storia e quant'altro, non so se siete appassionati di riviste di storia, ultimamente ce n'è veramente un bordello assurde, prima ce n'erano poche dedicate a determinati periodi storici e basta, poi ad un certo punto c'è stato un boom di riviste storiche, io quella che compro con più piacere, e per un po' ho avuto anche l'abbonamento, appunto è stata la storica di National Geographic, di cui è anche il primo numero da qualche parte, perché gli ho un po' sparsi di storica, un po' qui, un po' a Tarsogno, e secondo me il pregio di storica è di avere delle fotografie meravigliose, al di là che io trovo sempre molto bello come è scritto, è molto interessante, a me tipo focus storia non piace così tanto, non mi piace come è impaginato, non mi piace tanto come è scritto, e in generale le foto sono più belle quelle di storica, e poi ce n'era anche uno che era tipo, era in traduzione sicuramente, perché era una rivista di storia della BBC, BBC History forse, in traduzione, non sono riviste inglesi, di storia che anche quella però non, non so, non mi aggrada più di tanto, non l'ho mai fatto su in integrale, ma prima o poi la farò sicuramente, questa enciclopedia, che si chiama La Grande Storia, di National Geographic, però avevo comprato il primo volume, non è perché è sempre quello che costa meno, ma sui faraoni in realtà mi sa che erano dedicati i primi volumi, due o tre o quattro, non mi ricordo, ma di solito ricomincia sempre d'estate, tra l'altro questa qua, e non nego che è un mio sogno proibito, far su tutta questa enciclopedia di storia, del National Geographic, è una cosa a cui penso da anni, anni, perché sono sempre stata una grande appassionata di storia, e perché adesso vi faccio vedere com'è, al di là del, cioè io impazzisco queste cose, scusate, è più forte di me, io impazzisco, io ci sono cresciuta con le enciclopedie, perché mio padre è sempre stato un fissato delle enciclopedie, in casa mia c'era l'enciclopedia, non so, della seconda guerra mondiale, l'enciclopedia degli animali, l'enciclopedia medica, l'enciclopedia, mio padre non è medico, l'enciclopedia tipo gli atlanti, cioè un botto di atlanti, in casa mia quelli rilegati, bellissimi, alti, grossi così, che erano più grossi di me di quando ero piccola, cioè tutti quelli, quella navale, perché mio nonno era stato marinaio, insomma non lo so, una sbordellata di enciclopedie assurda, in casa mia c'è sempre stato, perché mio padre aveva il fascino delle enciclopedie, e io evidentemente mi sono fatta anche influenzare da questo fascino delle enciclopedie, e quindi il mio sogno è proibito appunto avere tutto, tutta l'enciclopedia della storia, della grande storia di National Geographic, ma perché ragazzi? Cioè, cosa non è? Cosa non è? Cioè questa enciclopedia, cosa non è? Insomma, è una roba straordinaria, non so descriverla, cioè dovreste aprire un volume e guardarlo, perché secondo me è oltre, io me la faccio su, ma che cazzo, è un massimo, spegniamoci 500 euro per fare un enciclopedia, che non mi servirà mai a niente, se non a bearmi, mentre la guardo lì nella, nella libreria, che effettivamente è una libreria nuova, ci starebbe benissimo un'enciclopedia di storia, scusate. Per National Geographic sono pazza, per National Geographic uscì anche questo, per esempio, per storia, uno speciale di storica, sull'antico Egitto, era il numero due questo, 9,90 euro, e passava ora, e è bellissimo, sempre appunto, 35 euro di sconto, ok, perché c'era la carta mia per abbonarsi a storica, che forse all'epoca ero già abbonata, beh, questa si sa, la maschera funerale di Tutankhamon, che è tipo, la roba più famosa che vedi, cioè, dell'antico Egitto, ce la mettono sempre, o quello, e non so, qualcosa di Ramses II, di solito, o la Sphinx, insomma, sono quelle robe lì, che di solito, quando dovete parlare di antico Egitto, sono sempre quelle robe lì, che compaiono, che è, questa era molto interessante, anche questa rivista, secondo me, se andate tipo, sugli arretrati, comunque la trovate, poi, per quanto riguarda i romanzi, allora, tra l'altro, c'è un'altra rivista, c'è un'altra, questa è un'altra rivista, sempre di storica, comunque, qua c'era, forse, un articolo, su Ramses, no, sulle Tove, sulla Valle dei Re, credo, sì, per farvi capire, adesso, com'è, la questione di storica, cioè, nel senso, tra tutte le riviste, adesso, questa non c'è niente, perché è un articolo sul gotico, ma voi vi rendete conto, cioè, se dovete, iniziare a leggere, una qualsiasi rivista di storia, storica, così, ve la butto lì, eh, comunque, vi dicevo, se volete, invece, recuperare dei romanzi, a tema Egitto, ce ne ho qualcuno, non ne ho tantissimi, simissimi, ma appunto, attendo i vostri consigli, allora, quello che purtroppo, voglio, scusa, scusate, il casino secco, che non si trova, a meno che non lo cerchiate in inglese, in inglese si trova, Margaret George, è la stessa, che ha scritto, il Re sul giullare, ha scritto anche un'altra serie, di romanzi storici, ha scritto, tipo, anche quello sull'Earone, che vi fece vedere, forse un paio d'anni fa, non mi ricordo, questa è una trilogia, su Cleopatra, si trova in inglese, vi metto magari il link qua sotto, perché io stavo per comprare l'inglese, ma vi parlo di, più di dieci anni fa, perché volevo leggere altro di Margaret George, e perché in quel periodo, stavo in fissa, con Cleopatra, perché andava in onda la serie Roma, quella dell'HBO, quella che mi hanno bloccata, la seconda stagione, mannaggia gli americani, dove la serie era, sì ma, era una cafonata atomica, a tratti, e lo so, però a me piaceva da bestia, e poi James Purefoy, come Mark Antony, e non, nessuno dica niente di Mark Antony, Mark Antonio, perché, non vi dovete permettere, di toccare Mark Antony, nessuno mette Mark Antony in un angolo, io team Mark Antony tutta la vita, comunque, a parte questo, perché quello stigato, sembra chiaro, è sempre quello, io Cleopatra, a me era piaciuto tantissimo, questa trilogia, mi era piaciuta tantissimo, perché aveva approfondito, il personaggio di Cleopatra, che secondo me, spesso e volentieri, viene un po' bistrattata, è semplicemente quella, che ha fatto il figlio con Cesare, ed è quella, che si è ammazzata, col serpente, no, con l'aspide, non è soltanto quella, qui, gli dà proprio tutta una profondità, al suo ruolo, a quello che era successo, quando, era prima che incontrasse Cesare, all'incontro con Cesare, vi racconta poi anche, il personaggio di Mark Antony, è anche approfondito benissimo, interessantissimo, in questa trilogia, me l'ha piaciuto anche Cesare, insomma, è veramente molto, molto bella, poi è chiaro, sono anche tre volumi, non credo che in inglese, fosse diviso in volumi, era semplicemente, un volume unico, più o meno, della stessa portata, del re su Giullare, e sono state, secondo me, con le 7-800 pagine abbondanti, ecco, se riuscite a trovarli, su qualche mercatino, accattatevi di grazie, io qualche volta li ho visti, non so se, dopo ci guardo su ebay, se si trovano, poi, questo lo trovate, sempre usato, forse si trova anche nuovo, perché esiste, o in questa, sì, forse sì, allora, io ce l'ho in questa edizione, Sonzogno, usato, l'ho trovato sul libraccio, esiste un'edizione della Lit, che non esiste più la Lit, però, trovate usato, sempre sul libraccio, e qui vi racconta invece, la storia di, At-She-Put, At-She-Sut, perché tutte le volte, faccio una fatica bestiale a dirlo, che è stato l'unico faraone donna, della storia, dell'antico Egitto, è un po' più complessa di così, la storia, ma, vi invito ad andare a leggere questo romanzo, che, di cui vi parlai, forse anche qui, non tantissimissimo tempo fa, secondo me, la parte storica, è interessantissima, c'era qualcosa, che non mi aveva convinta, al 200% di questo romanzo, ma, la parte storica, è talmente affascinante, il personaggio di lei, è talmente affascinante, che, secondo me, comunque, vale la pena, di recuperare, questo romanzo, e, quindi, assolutamente, assolutamente, leggetevelo, se poi amate, la storia dell'antico Egitto, è impossibile, veramente, che non, che non recuperiate questo libro, so che è andato in onda, poco tempo fa, perché, me l'ha detto, Elisa, se non ricordo male, un documentario, però, non mi ricordo, se era su Focus, o su, appunto, il Canada National Geographic, sempre su di lei, perché me ne ha detti due, uno su, appunto, Atchepshut, e uno, su Cleopatra, però, se lo trovo, ve lo metto qua sotto, quindi, non vi preoccupate, tutte quante le info, sempre nelle lingue ciccino, per quanto riguarda, la questione di, Howard Carter, e della scoperta, della tomba di Tutankhamon, di questo, sono sicura, che ve ne ho parlato, di recente, credo a gennaio, febbraio, in un tea time, l'affare Tutankhamon, questa è l'edizione vecchia, di Bonpiani, ma la trovate, nell'edizione nuova, è la stessa cosa, semplicemente, l'hanno ristampato, io l'avevo trovato, su un mercatino, ma, voi lo trovate tranquillamente, quindi, recuperatevelo, è un romanzo, molto interessante, intanto, è scritto da Christian Jacques, Christian Jacques, a lei mi è venuto in mente, un altro libro, aspettate qua un attimo, quindi, vi stavo dicendo, che, è scritto da Christian Jacques, Christian Jacques, lo sapete, è scritto una marea di romanzi, barra saggi, sull'antico Egitto, è un personaggio, insomma, importantissimo, un romanziere, egittologo, ha vinto un sacco di premi, insomma, ha scritto di tutto e di più, per quanto riguarda l'antico Egitto, quindi, è impossibile, non incappare in Christian Jacques, prima o poi, se siete appassionati di antico Egitto, perché c'è di tutto e di più, scritto da lui, io lo trovo, un romanziere straordinario, a me piace tantissimo, come lui racconta l'antico Egitto, senti, proprio percepisci tutto l'amore, che lui ha per l'antico Egitto, quindi, è impossibile, non innamorarsi, perché voi, veramente, vedete l'antico Egitto, attraverso i suoi occhi, innamorati, e quindi, voi vorreste partire, fare una gita, sul Nilo, con lui, e appunto, visitare l'antico Egitto, con lui, fermi, io credo di aver sottovalutato un po', la mia fissazione per l'antico Egitto, perché mano a mano che vi parlo, mi vengono in mente appunto i titoli, che avevo sparsi ancora per casa, e che non lo so, il mio cervello me li aveva fatti mettere da tutt'altra parte, così facevo finta di non averli, invece li ho tutti questi libri sull'antico Egitto, vabbè, e quindi nulla, e quindi questo romanzo vi racconta appunto, il tutto, tutta la vita di Howard Carter, da sin da quando è giovane, finché non arriva in Egitto, ai primi scavi, al suo incontro fortuito con Lord Carnarvon, quando appunto, poi Lord Carnarvon prenderà la licenza, per fare in modo che lui scavi, in un determinato punto, dove Howard Carter è convinto, che si trovi la tomba di Tutankhamon, tutta la storia di Lord Carnarvon, e quindi è assolutamente un romanzo completo, interessantissimo, bellissimo, affascinante, impossibile da non leggere, se non siete appassionati, cioè se siete appassionati dell'antico Egitto, dovete assolutamente recuperarlo, questi tre io non li ho ancora letti, mi aveva regalati Angela, Cannucciari, Pagine di Zucchero, anche questi sono su Cleopatra, li voglio tantissimo leggere, mi incuriosiscono tantissimo, lei me ne ha parlato un sacco bene, e erano stati stampati a Newton e Compton, secondo me sono un divertimento, dovrebbe essere un divertimento pazzesco, da leggere questa trilogia, questa saga di Cleopatra, io già dalle copertine, insomma dallo stile e tutto, secondo me sono proprio quei libri, che ne leggi uno dietro all'altro, perché ti prendono, non riesci più a mollarli, e quindi assolutamente imperdibili, se siete fan di questi tipi di romanzi storici, molto avvincenti. Christian Jacques, è ovvio che io non posso non citarvi anche questo, scusate se salto di palo in frasca, ma perché li ho tutti sporpegnati in giro i libri, i romanzi di Ramses, che sono cinque volumi, adesso io non ve li faccio vedere tutti, perché sono anche piuttosto, come dire, ciccioni, vi racconta appunto l'autore, in questa saga enorme, portentosa, epica, tutta la vicenda, tutta la storia appunto del regno di Ramses II, Donato II ha vissuto, e per tantissimi anni ha avuto un regno lunghissimo, non so se è il regno più lungo di qualsiasi altro faraone dell'antico Egitto, però ha avuto una vita veramente incredibile, e Christian Jacques ve la racconta anche qui, con una passione, un amore, per la vicenda storica, per il personaggio, per proprio l'antico Egitto, cioè ci sono delle parti in cui vi racconta il Nilo e il tramonto, no? E' una roba, vi giuro, che vi sembra di essere lì, vi sembra veramente di sentire, non so, il profumo, che profumo avrà, non lo so, perché io non ci sono mai stata, non lo so, percepite proprio l'aria dell'antico Egitto, insomma è meraviglioso, è una cosa incredibile, la calura, è stupendo, stupendo, sentite quasi i profumi che vi racconta, io trovo che lui sia un romanziere straordinario, e che nella saga di Ramses ha dato ovviamente il suo meglio, è una saga che tra l'altro, oh mi ricordo quando uscì, può essere uscita, può essere uscita in Edicola, che andava a comprare un volume per volta in Edicola, non lo so, però ho questo vago ricordo, uscì nel 97, sì, perché io mi ricordo, ero piccolina, però ho questo ricordo, perché la vedevamo ovunque, il romanziere di Ramses, solo che io mi sentivo, ero piccola ovviamente, quindi mi dicevo, allora lo leggerò quando sono grande, lo leggerò quando sono grande, e effettivamente dopo l'ho letto da grande, se non mi ricordo quanti anni fa, un volume per volta preso in biblioteca, poi un giorno appunto, al mio mercatino preferito, che è l'Emmaus, trovai tutti e cinque volumi, e secondo me, tutti e cinque li ho pagati dieci euro, una cosa del genere, costava tipo due euro l'uno, ma si trovano, a parte che adesso li ritrovate nella nuova edizione, che anche qui non cambia nulla da quella vecchia, semplicemente si trovano, ecco, banalmente per dire questo, ma se bazzicate nei mercatini, i romanzi questi qua, di Ramses, Secretariat Jacques, li trovate sempre, è impossibile veramente non riuscire a, a non trovarli, cioè, c'è veramente ovunque, quindi, io, mi sento di dirvi di dargli una possibilità, perché magari, alcuni di voi dicono, su cinque volumi sono tanti, anche perché sono belli ciccioni, non sono piccolini, è scritto grande, vi dico questo, però, cioè, sono comunque, questo è 400 pagine, e gli altri più o meno, secondo me, siano lì, sulle 400 pagine, quindi fate 400 per 5, c'è una saga abbastanza importante, cioè, adesso, ve li prendo tutti, che, cioè, sì, se provate a dire, ok, la unisco, capite che, insomma, è due volte hit, credo, quindi, è abbastanza, come dire, come vi dicevo, è poderosa, no, è importante, come saga, però, insomma, se amate l'antico Egitto, anche questo, è proprio un romanzo imperdibile, è, tipo, non so, credo che sia, adesso come adesso, che, forse, è il romanzo più importante, più famoso, scritto sull'antico Egitto, e quindi, e quindi io gli darei, comunque, un'opportunità, poi uno magari, potete anche dire, a me non entusiasmo, a me non prende, molto come scrive, Christian Jacques, però, vi ripeto, credo che, per quanto riguarda l'antico Egitto, Christian Jacques sia, veramente, il, il migliore che potete trovare, momentaneamente, perché, è quello che, seppur romanzando, si attiene di più alla storia, e quindi, cioè, se siete appassionati anche, proprio di storia, non volete soltanto, come dire, il racconto, e allora, è imperdibile, tra l'altro, di Christian Jacques, è questo, che mi sono scordata, prima di farvi vedere, che è questo saggio, che è Le donne dei faraoni, che vi racconta, appunto, di tutta una serie di personaggi, femminili, dell'antico Egitto, non soltanto quelli più scontati, diciamo, quindi, qui ad un certo punto, vi racconta, Sinefertari, che fu la moglie di Ranze II, ma anche della sua sposa Ettita, vi racconta, sì, è vero di Cleopatra, ma poi vi racconta anche, di certe regine, comunque, di certe donne, appunto, che vivevano, nella corte, diciamo, del faraone, che magari, si sono sentite nominare, un pochettino meno, rispetto a tante altre, e quindi, ecco, proprio per questo, vi consiglio, di andare a recuperare, anche questo saggio, sono quelli che appartengono, come dire, alla collana dell'osca storia, tra l'altro, a me, quando erano impaginati, così, tutti in nero, secondo me, erano di un'eleganza, fuori misura, so che lo state vedendo, ed è proprio questo, è del Dio del Fiume, che mi ero scordata, prima di farvi vedere, Wilbur Smith, ha scritto, tutta una saga, dedicata all'antico Egitto, con il protagonista Taita, che è questo, era uno scriva, vero, io questa roletta, non mi ricordo quanti, otto trilioni di anni fa, e, allora, chiaramente è una storia, completamente inventata, abbiamo il guerriero, abbiamo questa donna, no, che è divisa tra due uomini, abbiamo appunto, no, non era uno scriva Taita, era, a parte che era un ennuco, però forse era uno scriva, ma si può essere, che non me lo ricordo, attenzione, se riesco a trovarlo, ve lo dico, ma a occhio così, non lo leggo, ma vabbè, questo non ce ne frega assolutamente niente, in ogni caso, cioè, i Dio del Fiume, me ne ho parlato tantissime volte, credo che siano veramente, un altro di quei romanzi, che vi ho nominato, fino alla nausea, anche se non ve ne ho mai parlato, come dire, in maniera approfondita, perché l'ho letto, tanti anni fa, ero una ragazzina, quando l'ho letto la prima volta, la scrittura è quella di Wilbur Smith, Wilbur Smith, è un autore, che secondo me, anche lui è tra gli autori più commerciali, se vogliamo, per quanto è un termine che odio profondamente, trovo che sia uno di quelli che affianca una scrittura molto fluida, anche una scrittura comunque, a tratti, se vogliamo, anche ricercata, ma soprattutto una storia comunque profonda e approfondita, cioè non si limita semplicemente a l'azione, secondo me, lui è un altro, che comunque ha fatto tutta una ricerca storica, e quindi, sì, i suoi personaggi sono ben contestualizzati, se non altro in questo, che è il dio del fiume, anche se, io mi sento di consigliarvi anche il secondo, il settimo papiro, che parla, sì, di Egitto, ma ha una storia raccontata su due piani temporali diverso, cioè l'Egitto, se non mi ricordo male, una parte è la metà degli anni Ottanta, perché aveva i tempi contemporanei, però contemporanei è quando l'ha scritto lui, e poi un'altra parte è una specie di proseguimento della storia, di quello che mi viene narrato qua, quindi, cioè, Will Bull Smith è, qui era il Will Bull Smith dei tempi d'oro, è un po' come Ken Follett, Ken Follett secondo me ha avuto dei momenti, in cui scriveva veramente delle robe starordinarie, cioè non ci si può dire niente, cioè, chi di voi ha letto I pilastri da terra, secondo me si è reso conto che riusciva a leggere quel romanzo, nonostante avesse più di mille pagine, nel giro di pochissimo, perché è impossibile staccarsi dalle pagine, e Will Bull Smith è uguale, cioè, è uno di quegli autori che è impossibile staccarsi dalle pagine, perché, tra l'altro, secondo me, non hanno mai avuto la pretesa di, necessariamente, essere quelli fighi, essere quelli che dovevano scrivere tutto in modo fighettino, per fare in modo di avere anche, come dire, il plauso, anche di una certa cricca, forse perché all'epoca, tutte ste rotture di balle che ci sono, adesso non ci sono, non lo so, adesso c'è questa cosa, lo sapete che io non lo amo, non mi sto qua a ripetere questa cosa di autore di serie A, di serie B, e pare che un autore, siccome vende un botto, è commerciale, che poi, lasciamo perdere questo discorso, non voglio ripetermi un'altra volta, ma Will Bull Smith, secondo me, è veramente un autore, che io vi consiglio di recuperare, se non l'avete mai letto, se amate l'antico Egitto, partite dal Dio del Fiume, e se non l'avete l'antico Egitto, volete comunque provare a leggere Will Bull Smith, Il Dio del Fiume, assolutamente, un romanzo storico, incredibile, scritto benissimo, c'è, c'è un motivo se, e c'è ancora, e si nomina così tanto spesso, oddio, io lo nomino tanto spesso, poi non lo so, altre persone se lo nominano così spesso, però, ecco, insomma, credo che sia in tantissime case, tra l'altro, Il Dio del Fiume, e quindi, non dovresti neanche far faticare a recuperarlo, questo romanzo, che mi sono messa nella mia wishlist estiva, è Nefertiti, di Nick Drake, io me lo ricordo quando l'ho lessa una mia compagnia di università, ve ne parlai, appunto, questo me l'hanno regalato, e vi racconta, è metà durante il regno del faraone Achenaton, che tra l'altro era il padre di Tutankhamon, che anche lui è una storia interessantissima, che, non so, non è uno spoiler, però ecco, magari non la sapete, volete scoprirla, e niente, qui è praticamente una specie di giallo, ambientato nell'antico Egitto, e io mi ricordo quando l'ho lessa una mia compagnia di università, che era infoiatissima con questo libro, che non riusciva a metterlo giù, e che l'aveva presa tantissimo, e quindi ho deciso che quest'estate lo leggerò, infatti fa parte della mia wishlist, che vi farò vedere, dei miei 5 più 1 libri, che voglio leggere assolutamente quest'estate, quando finirò di selezionarlo, ovviamente, perché sto avendo delle crisi di nervi notevoli, del, oh mio Dio, ma se lascio fuori questo, vabbè, delle robe assurde, tanto tutti dei libri di queste dimensioni, perché io non mi so proprio contenere, ma dove cacchio va i penni, non lo so, va bene lo stesso, vabbè, e quindi ragazzone, ragazzone, questi sono i miei titoli, per quanto riguarda l'antico Egitto, fatemi sapere se voi per caso avete altri titoli da consigliarmi, per quanto appunto riguarda questo meraviglioso periodo storico, se ci sono, cioè se avete letto alcuni di questi romanzi, e volete appunto parlarmi, ne scrivetemi pure qua sotto, se avete altri tipi di consigli, tutto quanto, saggi, documentari, di tutto e di più, voi scrivetemi qui, io attendo appunto di poter chiacchierare di antico Egitto con voi, e andiamoci, vi prego, andiamo nell'antico Egitto, andiamo nell'antico Egitto, perché ho la macchina del tempo io, va bene, vabbè, sono partita, ok, tutto a posto, noi ci vediamo molto presto, io vi auguro buone letture, vi mando un bacio, un abbraccio, ciao!